Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandici e Barberino, sulla FIPILI in direzione Firenze per lavori un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est e rallentamenti per lavori tra il Bivio per la A12 e Lavoria sul ramo di Livorno. Su raccordo Siena-Firenze ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Monteriggioni e Siena Nord. Scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. Chiudiamo con i treni per circolazione perturbata nel nodo di Firenze sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo potrebbero esserci ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.